Droga e munizioni, arrestato dai carabinieri un 54enne di Mozzate, i militari dell'arma delle stazioni di Turate e Mozzate, compagnia di Cantù, hanno organizzato nella giornata di ieri un servizio mirato per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti sul territorio. I carabinieri hanno effettuato un controllo a Mozzate in collaborazione con il nucleo cinofili di Casate Novo. Il 54enne è stato trovato in possesso di più di 100 grammi di hashish e marijuana. Gli accertamenti sono proseguiti anche nell'abitazione dell'uomo. I militari dell'arma hanno scoperto e sequestrato, oltre alla droga, anche numerose munizioni. Tra queste è anche un proiettile tracciante, ovvero una munizione modificata per contenere una piccola carica pirotecnica non utilizzabile nelle armi comuni. Il 54enne, residente a Mozzate, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione di munizioni senza la necessaria segnalazione all'autorità competente. Droga ai proiettili sono stati sequestrati. Processato oggi con rito direttissimo in tribunale a Como, il 54enne ha patteggiato un anno e quattro mesi.